Con Funambolica iniziano i grandi appuntamenti dell'ente manifestazione pescaresi per l'estate. Sì, sono contentissimo finalmente perché è arrivata anche l'estate oltre che i nostri programmi, i nostri spettacoli. Iniziamo con Funambolica, la diciassettesima edizione e quindi daremo un po' di felicità, un po' di gioia dopo questi anni bui del covid, di restrizione eccetera. Finalmente ci apriamo totalmente al pubblico. Sabato ci sarà la conferenza stampa anche per il Pescara Jazz e quindi veramente iniziamo alla grande ad impegnare la cittadinanza, ma non soltanto la cittadinanza di Pescara, spero, ma tutto l'Abruzzo e anche oltre, con spettacoli dal vivo dove verranno veramente a gioire dei nostri impegni e sacrifici che stiamo comunque facendo e io veramente mi pregio di avere due direttori artistici alla mia destra e alla mia sinistra che veramente sono delle persone eccezionali come appunto Raffaele Drittis e il maestro Angelo Valori. Le novità sono parecchie come sempre, ogni anno il festival è tutto nuovo perché il pubblico per fortuna ci accompagna e quindi aspetta novità. Si comincia sempre con la tradizione dell'anteprima al porto turistico grazie alla collaborazione con Marina di Pescara con lo spettacolo più intimo, quello sotto il tendone che raccoglie poi il pubblico più familiare. Chiaramente c'è l'appuntamento più atteso che è il Gran Galà du Cirque, quest'anno è il quindicesimo, il più grande appuntamento circense d'Italia. Il Gran Galà riunisce un po' il best of di quello che nell'anno il mondo del circo ha potuto produrre. Quindi sono artisti da dieci nazioni, dai cinque continenti, sono i vincitori dei più grandi talent show da America Got Talent a Tossica e Vales, i vincitori del festival di Monte Carlo, di altri concorsi o anche per una sera riusciamo ad avere in esclusiva le superstar provenienti dai grandi show di Las Vegas, dall'Ido di Parigi, dal leggendario Moulin Rouge. Questo è il primo di tanti appuntamenti che coinvolgeranno la città e che vedono l'amministrazione comunale al fianco delle varie associazioni e dei varianti. Noi stiamo approntando un programma culturale molto importante per la città di Pescara, stiamo ultimando un programma che coinvolge sicuramente tutta la città, in modo particolare, così come abbiamo fatto anche lo scorso anno, anche le periferie, con interventi che consentano di considerare la cultura come un qualcosa di inclusivo che riesce ad attrarre anche le zone più periferiche della città, attrarre le famiglie, in modo che l'arte e la cultura in genere possano essere percepite da tutta la cittadinanza.